Il Venezia inizia decisamente bene questo campionato. Travolgendo il Como all'esordio nel 30 casalingo conquistato domenica scorsa. I Lagunari hanno dominato completamente la sfida del Penso. Portandosi già sul 20 nel primo tempo con la doppietta di Pierini. Poi, nella ripresa, è stato l'attaccante finlandese poi Ampalo a chiudere i conti con un tris al 54. Per un successo meritato dalla squadra guidata da Paolo Vanoli. D'altronde il Cosenza ha iniziato il campionato con una vittoria. Battendo 30 all'esordio L Ascoli. Una partita andata in discesa al 20 con il rigore di Tutino. Ma soprattutto con le tre espulsioni in casa marchigiana di Falasco. Bucele è forte. E nella ripresa Arioli e Zilli chiudono tris finale. Tra il 54 e 61. Consegnando ai primi tre punti stagionali. La squadra di Fabio Caserta. bonus 530 euro Venezia Ioronen. Candela, Idsis, Svernko, Zampano, Busio, Tesman, Ellerzon, Pierini, Poi Ampalo, Johnson. Allenatore Paolo Vanoli. Cosenza Micai, Martino, Venturi, Meroni, Dorazio, Zuccon, Calò, Arioli, Mazzocchi Tutino, Durso. Allenatore Fabio Caserta. La previsione andando a parlare del pronostico della sfida. Venezia parte in vantaggio alla vigilia per aggiudicarsi l'intera puntata. In alternativa potete giocare il segno over 2,5 con la migliore quota 2,10 quella data da Better. Che propone 25 euro subito 500 euro sul primo deposito 5 euro virtuali. Infine, l'opzione over 0,5 primo tempo è proposta 1,41 da Sisal.